Wahey Kooj, benvenuti alla vostra, andate in questo nuovo episodio di WarioWareGold Praticamente, nella sfida misto può capitare un po' di tutto, però La scorsa volta l'abbiamo fatto, ora, sapete che vorrei fare, però in realtà io? Sfida mortale, voglio un attimo vedere le statistiche però, no? Ok, questo è il record, niente Sfida mortale, che cos'è sfida mortale? Proviamo, vediamo un po' Ok, iniziamo con PiggiaTutto, va, vediamo un po' se è divertente questa modalità Ah, più difficile di tutte, quindi Oh, ioioi Beh, questo era abbastanza semplice, dai, c'era solo lui maculato in quella maniera Ehi, lo sapevo che giravano Ah, con una sola vita? Ah, quindi i più difficili con una sola vita No, dai Da paura Devo arrivare almeno a 10 Ma cos'è? Uno scimmione Evita Oh Ma è pazzo? Vada piano, vada Dato che è una pista ciclabile quella È una zona pedonale, quindi vada piano Eh no, l'ho mancato il primo? Oh, primo dovrebbe sul serpente No, devo arrivare a 10, devo arrivare Ma dai Almeno uno Almeno uno Mamma mia E' chi era quello? Che era quello? Ora, questo è afro, quindi è più forte Dato che c'è capelli Nooo Nooo Vai, superato 5 Ora sono contento Posso anche morire soddisfatto ora Nel gioco intendo, eh Intendo nel gioco, non nella vita vera Nella vita vera sono molto insoddisfatto Ah Fregato, Ouigi Cosa? Cosa? Nooo Proprio mo' che stavo cominciando a divertirmi No, ok Allora facciamo sfida mortale Gira tutto Mamma mia No, era sulla terra ferma Oh, già Oh, è primo Oh, dai Iniziamo troppo male Muove Dove devo andare Dove devo andare Oh, là, via Oddio Schiacciali tutti Morite Non è una bella cosa, però All'ultimo All'ultimo Per un'unghia Non è che se me la copri non la vedo, eh Eh, stavolta È la prima volta che riesco a farlo bene Guardalo che surfista Vai, Maiaino Intrappolato per sempre Accendi Oh, grande Quindi c'è in teoria un metodo giusto per farlo Dai, dai, dai Eh, catturato l'UFO Oh 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 Vabbè, però almeno 12 Se riesco a fare più di 10 è già un grande risultato Tocca tutto, vai L'ultima sfida No, no Ci sto a perdere le ore Non è che posso perderci troppo tempo Se no è È impossibile Vai, gattino Ed ora Cosa? Ah, quindi quelli andavano bene Ma quello era l'uomo del monte Eh, ma Wario Cosa fai? Vabbè, però Non si può neanche minimamente toccare Che subito parte Eh, non lo so, eh Ma che è sta cosa? Neanche a Mr. Olimpia Ah Vai È soddisfatto Quando brilla Allora è soddisfatto Oh Meno male Se no si arrabbiava l'insegnante Quelle vecchie Sopo sono tremende Ah, fermato In equilibrio 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 È cascato Spreca la carta Scaricati What? Vabbè, però Non 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 Vabbè Almeno set Vediamo un po' Se però ha sbloccato Una modalità nuova Oppure devo fare un certo punteggio No, basta che gioco un pochettino Super Difficile Sì, perché sfida mortale Contro super difficile No A velocità pazzesca Se nel posto giusto Ah E la velocità Aumenta costantemente Non farti venire fiatone È un po' difficile E abbiamo anche tutte quante Le modalità Dei vari minigiochi No ragazzi È impossibile Però ad ogni modo Lo proveremo la prossima volta In un nuovo video Io come sempre vi ringrazio Per averlo seguito Vi ricordo In descrizione come sempre Link per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti Al canale Iscrivetevi Noi ci vediamo come sempre Domani con un nuovo video Bye bye